primavera si inizia subito con il piede sul gas subito il derby con la sciamina certo siamo rimasti diciamo molto contenti perché dopo una brutta frenata del campionato perché naturalmente da questo covid che nessuno si aspettava ripartiamo subito con la partita magari più attesa sai quando inizia a vedere il calendario la prima cosa che uno fa dice vediamo quando giochiamo il derby anche per un discorso di simpatia e quindi niente ci aspettiamo questa prima partita che il 17 ottobre ci stiamo preparando come stiamo preparando per tutto il campionato i ragazzi li vedo molto motivati e niente vediamo cosa succederà l'obiettivo della nuova stagione allora diciamo che noi come obiettivi ogni anno cerchiamo di non darcelo ma non perché non vogliamo darci un obiettivo ma per cercare di fare sempre di meglio della stagione precedente è normale siamo una società nuova e ogni anno fare meglio dell'anno scorso se si è già fatto bene non è facile però la cosa principale quest'anno era mettere dentro persone giovane mettere ragazzi giovani del territorio soprattutto e ci siamo riusciti ora naturalmente la conferma se andrà bene o no lo darà il campo e vediamo come risponderanno questi ragazzi con le squadre che sicuramente saranno più esperte di noi però i nostri ragazzi non ne mediteranno sicuramente. Primo vero test importante sabato in amichevole contro il Cosmolise. Sì abbiamo appena fatto due amichevoli prima di questa che affronteremo sabato naturalmente con la categoria inferiore e abbiamo ben figurato ora vediamo cosa accadrà sabato con una categoria inferiore con la Serie A e iniziamo a vedere un pochettino dopo tre settimane di preparazione con i ragazzi come si comportano ad affrontare sicuramente persone un pochettino più formate di loro.